Panzer costruisce porte corazzate, aggiornando continuamente le proprie tecniche e i materiali per garantire al cliente un prodotto sempre all'avanguardia. Panzer è un'azienda artigiana che opera nel settore della sicurezza meccanica. Panzer costruisce porte corazzate, aggiornando continuamente le proprie tecniche e i materiali per garantire al cliente un prodotto sempre all'avanguardia. Il titolare dell'impresa, esperto serraturiere, segue personalmente il cliente, dal sopraluogo tecnico alla consegna, per offrire soluzioni personalizzate e rispondenti alle esigenze specifiche. Organizza inoltre il processo di produzione, garantendo il mantenimento dell'alta qualità del prodotto a costi industriali. Le porte corazzate Panzer nascono nello spirito della tradizione di impresa artigianale, mirata ad ottenere prodotti personalizzati di alto livello qualitativo, avvalendosi dell'utilizzo delle moderne attrezzature che consentono di realizzare i modelli tecnologicamente più avanzati. Prodotti realizzati in acciaio, da sempre sinonimo di grande resistenza e versatilità, materia prima che assicura serramenti di massima robustezza ed eleganza. Da Panzer troverai inoltre porte ad uno o due battenti, porte con vetro antisfondamento, pannelli esterni ai modelli condominiani. Eseguiamo il recupero dei pannelli esistenti e le installazioni urgenti nell'arco di 24 ore, possibilità di effettuare pagamenti rateali senza interessi e senza cambiari.